Parliamo di calciomercato, il mercato del Pescara ha le priorità, un mediano aggressivo, due se Busellato dovesse cambiare aria, da affiancare a Pompetti e soprattutto una prima punta che attacchi la profondità da doppia cifra. Allora procediamo con ordine, Rizzo che ha sposato, ricordiamo una ragazza pescarese che spinge per tornare al Delfino, prima però la Triestina deve trovare un sostituto. Nella giornata di ieri ma anche di oggi tutto fermo, oggi non è sceso in campo Rizzo con il Trento in Coppa Italia perché squalificato. Nella trattativa Sebastiani aveva offerto Valdifiori ma il tecnico dei Giuliani, l'ex Cristian Bucchi, ha bisogno di un calciatore diverso, simile per caratteristiche a Rizzo. De Risio non è stato convocato al pari dell'ex per rotta per il match di Coppa Italia contro l'Andrea, entrambi sono ufficialmente sul mercato per il centrocampista. L'ultimo contatto tra Bari e Pescara risale a 20 giorni fa, il problema è rappresentato dall'ingaggio, non c'è intesa tra le parti. Per rotta invece non è stato mai richiesto dal Delfino, mentre l'attaccante Simeri, stimato da Uteri, non è in uscita dal club pugliese. Busellato e Galano restano due punti interrogativi, non è affatto scontata la loro permanenza. L'attaccante Francesco Margiotta, appena svincolatosi dal Chievo per le note vicende, non scenderà in C sul classe 93 Scuola Juve, ex Losanna e Lucerna. C'è l'interesse concreto del Cosenza, qualche opportunità anche all'estero. Margiotta non è una novità in senso assoluto. Un anno fa infatti il suo procuratore Libertazzi ne parlò con il presidente del Delfino a poche ore. Dalla conclusione della sessione estiva non se ne fece nulla. Margiotta venne ingaggiato dal Chievo e disputò una buona stagione. Tra i profili seguiti c'è il 22enne esterno d'attacco Mancino Giuseppe Borello, che però almeno per ora il Crotone non considera in uscita. Possibile in caso di partenza di Galano il ritorno di Luca Clemenza, reduce però da un'esperienza tutt'altro che fortunata nelle fila del Sion in Svizzera. Per la punta centrale che attacchi la profondità da doppia cifra si torna a parlare di Simone Corazza, idea di inizio mercato in uscita dall'Alessandra e legato Corazza da altre due stagioni al club piemontese. Tre le promozioni in B centrate dall'attaccante classe 91, due sempre con l'allenatore, lo stesso allenatore Toscano nel Novara, Domenico Toscano naturalmente l'allenatore, con il Novara nel 2015 e nella Regina due stagioni Orsono. 14 gol in campionato per Corazza, mentre lo scorso anno è arrivata la terza promozione in B con l'Alessandria. Staremo naturalmente a vedere. Staremo naturalmente a vedere.